Ehi tu! Sì, dico proprio con te che hai aperto questo video. Hai forse bisogno di più memoria per il tuo computer, ma tutti gli hard disk che hai trovato finora in circolazione costano un patrimonio? Il tuo computer si è forse rotto e non sai come estrarre le informazioni degli hard disk interni? Forse ho il prodotto giusto che ti può aiutare. I case per hard disk. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui con una nuova recensione. Ma prima di iniziare, vai con la sigla! I case per hard disk dei quali vi voglio parlare oggi sono prodotti della marca Oki. Marca che se mi seguite già da un po' sul canale avrete visto che stra adoro. Per il semplice fatto che porta prodotti utili, ad un basso costo e di un buon materiale. Di questa marca ho già testato vari prodotti e finora nessuno mi ha mai deluso. E quindi oggi vi voglio parlare dei suoi hard disk. Nello specifico, i prodotti che tratto oggi si chiamano USB 3.0 HTD External Enclosure. E sono, come potete vedere, dei case per hard disk. Questo modello non necessita di un cacciavite per essere aperto. E a mio parere è uno dei suoi punti forti. Perché in caso di bisogno lo si può sempre aprire. Mettete in caso che il disco si stacchi e non funzioni più. Si può semplicemente aprire il case, controllare dov'è il problema, magari riconnettendo l'hard disk se si è scollegato durante una botta o roba del genere. E l'hard disk ritorna a funzionare senza aver bisogno di avere altri cacciaviti o robe strane da agganciarci. All'interno della scatola troviamo solo il case e il cavo USB 3.0 per collegarlo al PC. Oltre ai vari manuali che nessuno legge mai e ha la garanzia. Il montaggio è molto semplice. Si apre il case, si inserisce l'hard disk che può essere sia a stato solido che meccanico, come state vedendo dalle due riprese. Lo si incastra facendo molta attenzione all'interno dei contatti. E questo passaggio va fatto con molta delicatezza perché se sbagliamo sbraghiamo l'hard disk. E si richiude il case applicando una leggera pressione. A questo punto il nostro hard disk esterno è pronto. A mio parere questa è un'ottima soluzione economica per avere un hard disk esterno, quindi per aumentare la capienza del vostro computer o per archiviare file che non usate più. Infatti io ad esempio su uno dei miei hard disk ci metto tutti i filmati che creo per il canale YouTube e per la pagina Instagram. In maniera da avere un backup di tutti i miei lavori ma di non appesantire il computer che ovviamente non può avere quintalati di roba sopra. Inoltre se avete fatto un giro su Amazon vi sarete accorti che gli hard disk interni, quindi che non hanno appunto la scatola esterna per essere utilizzati come hard disk esterni, hanno un costo molto inferiore rispetto appunto agli hard disk esterni. Di conseguenza dato che questo case non costa tantissimo, sta intorno alla decina di euro, questo permette di avere un hard disk esterno della capienza che vogliamo noi a un costo inferiore. Infatti basterà prendere un hard disk come avete visto, magari di un computer vecchio che si è rotto o un hard disk anche su Amazon, inserirlo all'interno di questa custodia e avremo il nostro hard disk esterno pronto all'uso. Pronto per archiviare tutti i nostri file o per essere utilizzato durante i viaggi. Vorrei inoltre far notare che il montaggio è veramente veloce e immediato. Bene, se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like, se non vi è piaciuto mettete un dislike, però spiegatemi per favore nei commenti che cosa non vi è piaciuto, così che posso migliorare nei prossimi video. Inoltre ricordatevi che nei commenti mi potete fare tutte le domande e tutte le richieste che volete, anche di video futuri che magari vorrete vedere qua sul canale. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che mi trovate sia su Instagram che su Facebook, il link è qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!